Musica Bentornati all'appuntamento con Dentro il Consiglio Il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana Allora vediamo quelli che sono i tre argomenti che affronteremo in questo nostro appuntamento Subito parleremo di IRPET, il sì all'indirizzo della Giunta perché il Consiglio regionale ha espresso parere positivo a maggioranza registrando 28 voti a favore e 10 astenuti Parleremo anche di una mozione che è stata respinta per la revocca dell'incarico della Regione Olivero Toscana E' stata presentata da Fratelli d'Italia per le affermazioni lasciate sulla Meloni dopo il voto del 25 settembre E poi un libro che è stato presentato per il cambiamento Bambine negate sarà presso tradotto anche in spagnolo, inglese e tedesco Il Consiglio regionale ha approvato maggioranza con 28 voti a favore e 10 astenuti Le linee di indirizzo per l'elaborazione del programma di attività IRPET definite dal governo regionale Entrando nel merito per quanto concerne il 2023 il programma prevede una distribuzione Tra le attività istituzionali che la legge istitutiva dell'IRPET attribuisce allo stesso Attraverso il finanziamento ordinario e le attività comuni più direttamente connesse agli obiettivi Dei fondi strutturali europei oppure quelli regionali oltre che al loro specifico finanziamento Come ogni anno la Giunta regionale ha recepito una serie di indirizzi da trasmettere ad IRPET Per l'attività di ricerca del prossimo anno anche in una proiezione pluriennale Il Consiglio regionale ha condiviso sostanzialmente le linee di indirizzo che la Regione ha trasferito ad IRPET In quanto l'attività di ricerca che questo ente svolge si dimostra da sempre particolarmente preziosa Per l'azione di governo regionale ma a maggior ragione si dimostra tale in questo contesto storico Un contesto caratterizzato da profonda incertezza nel quale da una parte occorre fronteggiare la crisi energetica I rincari dei costi che sicuramente incidono sul prodotto interno lordo anche della nostra Regione Dall'altra la necessità di far fronte alle tensioni internazionali e al minore approvvigionamento di risorse che si registra In questo periodo. Il tutto in un momento storico particolare come questo Nel quale la Toscana come le altre Regioni italiane è chiamata a vivere la sfida del PNRR E quindi l'utilizzo delle risorse in una logica di sviluppo compatibile In questo contesto l'attività di ricerca di IRPET diventa particolarmente importante Anche sotto il profilo della consulenza che viene prestata da queste ente sia alla Giunta regionale Che al Consiglio regionale ed è per questo che il Consiglio regionale toscano ha deciso Di approvare le nuove linee di indirizzo ad IRPET nelle quali peraltro ci si appunta su un aspetto particolare Quello della innovazione e della digitalizzazione Soprattutto allo scopo di considerare quali aree del nostro territorio regionale vivano uno stato di digital divide E capire quali ripercussioni questo possa avere sullo sviluppo dell'economia e della società toscana Noi in Commissione abbiamo ascoltato la relazione del direttore di IRPET Nicola Sciclone abbiamo negli anni espresso quando c'era da esprimerlo il nostro favore rispetto all'attività di IRPET Quest'anno alcune cose ci lasciano un po' perplessi Innanzitutto perché credo che quello che sta accadendo nel mondo e anche per l'economia italiana Con tutte le ripercussioni che ci sono dalla pandemia alla crisi energetica Porterebbe una serie di riflessioni La prima sicuramente se quella è crescita economica inclusiva e sostenibile Che è sicuramente un obiettivo condivisibile Ma molto ambizioso sia oggi veramente da realizzare Noi poi siamo rimasti basiti quando vedendo un programma di attività con proiezione trinale Non si fa minimamente scenno Quello che dal nostro punto di vista è uno degli strumenti per far ripartire l'economia toscana Che è il regionalismo differenziato Noi abbiamo chiesto al direttore e abbiamo sollecitato anche l'aula Perché? C'è stato detto di una scarsa attualità del tema In realtà se andiamo a vedere l'attività del nuovo Parlamento E le parole soprattutto del nuovo Presidente della Camera Lorenzo Fontana È sicuramente di stretta attualità Abbiamo dato a IRPET l'indirizzo di affrontare uno studio sul Digital Divide in Toscana Cioè su come la diffusione di internet della rete in Toscana Possa creare differenze tra una zona rispetto all'altra Noi abbiamo chiesto di inserire due valutazioni che secondo noi sono fondamentali Ovvero di capire se questo divario digitale che esiste ad oggi tra alcune zone piuttosto che altre Influisce anche sulla diffusione, sulla nascita di nuove imprese Soprattutto le imprese individuali e ditte più piccole Cioè se uno deve aprire ditta Oggi valuta o meno di aprirla in una zona dove la copertura internet è più forte rispetto a un'altra Se sì o no E soprattutto anche sulla scelta della residenza Quindi il tema della residenzialità tanto cara ai nostri sindaci Cioè cercare di capire una persona dove va a vivere Se oggi nella scelta della zona dove vivere, dove acquistare una casa, dove radicare la propria famiglia Prende in considerazione anche la copertura digital, la presenza o meno di internet E anche questo secondo noi è un tema importante Parliamo dell'incarico di Oliviero Toscani È stato affidato da parte della regione il contest fotografico alla Toscana dei Toscani Una campagna promozionale dedicata al turismo femminile In continuità con il progetto regionale Benvenute in Toscana Quindi per tutte le attività di comunicazione istituzionale proprio della regione toscana Ma il consiglio regionale ha respinto a maggioranza una mozione presentata dal consigliere Diego Preturci Di Fratelli d'Italia in merito alla richiesta di revoca dell'incarico a Oliviero Toscani A seguito delle dichiarazioni rese sull'esito degli ultimi risultati elettorali In modo particolare proprio su Giorgio Meloni e sugli elettori che hanno votato a favore appunto del partito Che sono stati definiti come deficienti Ma ascoltiamo proprio le dichiarazioni che ha rilasciato ai nostri microfoni Diego Preturci Con la lettura proprio di quel frammento di articolo e ovviamente il commento di tutti i consiglieri Cosa ho provato quando ho capito che Meloni avrebbe vinto? Veramente non sapevo se era Vanna Marchio o la Meloni Urla, strabuzza gli occhi, pitturati di blu, mostra le unghie rosse Direi che è abbastanza volgare Gli italiani che l'hanno votata? Quando la maggioranza è cogliona hai una democrazia cogliona Gli italiani che hanno votato Giorgia Meloni sono deficienti per me Queste sono le parole con cui Oliviero Toscani ha commentato le elezioni politiche del 25 settembre Gravi in assoluto, gravi a maggior ragione nel momento in cui Oliviero Toscani è stato incaricato alla regione toscana Di fare una campagna alla Toscana di Toscani all'interno di Benvenute in Toscana Per attrarre il pubblico femminile nella nostra regione Evidentemente le due cose stridono, evidentemente questa cosa è gravissima Per cui oggi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una mozione in consiglio regionale Chiedendo intanto di condannare le gravi esternazioni a livello Toscani E poi di revocargli l'incarico profumatamente pagato per fare questa campagna pubblicitaria Anche perché ci chiediamo le donne che Toscani vorrebbe attrarre in Toscana Sono tutte, escluso quelle evidentemente che hanno votato Giorgia Meloni Perché se sono, come lui ritiene, deficienti è evidente che la cosa non sta insieme Allora noi abbiamo chiesto che il consiglio regionale prendesse una posizione chiara su questo Come hanno fatto i Benetton quando Oliverio Toscani si espresse in maniera orribile Sul crollo del Ponte Morandi Cosa fece? Lo licenziarono Noi chiediamo, abbiamo chiesto che la regione toscana facesse la stessa cosa Ovvero revocasse l'incarico dato a Oliverio Toscani Perché è una cosa gravissima quello che ha detto È una cosa ancora più grave perché lo dice contro una donna e contro le donne È una cosa tre volte grave perché il suo messaggio, la sua campagna dovrebbe proprio attrarre le donne in Toscana Noi abbiamo trovato quell'atto, un atto condizionato da un pregiudizio Che è quello, il pregiudizio nei confronti di Oliviero Toscani Che come tutte le persone di questo mondo ovviamente può esprimere le proprie valutazioni Noi tra l'altro a fronte dell'atto abbiamo proposto proprio per, come dire, sgombrare il campo Dal rischio che fosse davvero interpretabile come un pregiudizio a priori nei confronti di Toscani Di separare le due parti Cioè noi eravamo assolutamente disponibili a esprimere ferma condanna rispetto alle dichiarazioni di Toscani Nei confronti della Presidente Meloni ci mancherebbe altro Sul tema della revoca dell'incarico ci è sembrato ovviamente appunto un atto strumentale Noi eravamo pienamente disponibili Questa proposta è stata rifiutata Riteniamo che ovviamente su questi temi si debba sempre cercare di trovare il più ampio consenso E soprattutto la più ampia convergenza noi avevamo dato piena disponibilità Finché si arrivasse a questo obiettivo Probabilmente avrebbe da dire un osservatore esterno Che la finalità magari dell'atto era un'altra E quindi su questo l'indisponibilità di chi ha presentato l'atto è stata totale Oliviero Toscani non ci meraviglia più ormai Dopo le sue frasi sul ponte di Genova dove sono stati allucinanti, orribili, orripilanti Nei confronti di quella tragedia e delle vittime Dopo aver essere stato denunciato da un ragazzo e quindi condannato dal tribunale Di un ragazzo calabrese che voleva semplicemente fare una foto con lui E che gli è stato detto no non faccio una foto con te perché hai la faccia da mafioso Oggi, un po' di tempo fa su un'intervista di un giorno a Pecora Continua a offendere i politici italiani Gli elettori italiani Ma soprattutto ad essere un sessista, un maschilista Ad usare toni, modi e parole nei confronti di una donna Di Giorgia Meloni che è un leader Che veramente sono orripilanti La usate nei confronti di Silvio Berlusconi nel tempo e le ha ribadite La usate nei confronti di Giorgia Meloni La usate nei confronti di Enrico Letta La usate nei confronti degli elettori Che scelgono di andare a votare in un momento in cui L'affluenza è sempre in calo E noi facciamo uno sforzo dicendo agli elettori andate a votare Ecco troviamo un naif che si permette di offendere tutte e tutti andando in televisione Credo che abbiano fatto bene i Benetton nel 2010 Nel 2020 a mandarlo via quando ha usato quelle frasi Credo che abbia sbagliato il Presidente della Regione Toscana Ad affidare un incarico a una persona che usa quei termini, quei modi Nei confronti degli elettori, nei confronti della politica Abbiamo chiesto di revocare quell'incarico Che costa 30.000 euro alla Regione Toscana Magari con quei 30.000 euro noi potevamo fare altre cose Il Partito Democratico ha scelto di tenere, Oliviero Toscani Di dare una consulenza a una persona che si permette di offendere Le donne e gli uomini, coloro che fanno politica, coloro che vanno a votare Noi crediamo che non sia giusto Noi riteniamo invece che la difesa dell'immagine, della dignità delle persone Donne e uomini, lo ribadisco, debba essere assolutamente trasversale E che la Regione debba dare il buon esempio E non utilizzare come testimonio Comunque sia dare degli incarichi a delle persone che Legittimamente, come personaggi pubblici, esprimono la loro opinione Che però non può essere condivisa E non ci deve essere accostamento come la Regione Toscana Pensiamo soltanto che il messaggio, il progetto Per cui Oliviero Toscani è stato incaricato Sarebbe quello di dare il benvenuto Alle donne che visitano la Toscana E il benvenuto viene dato da una persona Che però non ha nessun problema invece A insultare un esponente politico E dico questo con una visione completamente diversa Da quella che ha l'onorevole Meloni Ma riconoscendo a tutte le donne, a tutte le persone A ogni essere umano la dignità di non essere insultato Sull'aspetto personale Ma di riuscire a partare lo scontro sul livello politico Come a noi viene insegnato Ecco, io credo che la Toscana E soprattutto questa maggioranza da due pesi, due misure Debba cominciare a dare il buon esempio anche su questo Invece di elargire perle di morale Come spesso fa, però comportandosi in modo diverso Io ho votato a favore Perché ritengo che sia indecoroso Quello che è stato detto E quindi la regione Toscana deve prendere un provvedimento Perché il rispetto nei confronti delle persone In primis di una donna Deve essere da parte di tutti E soprattutto quando si ha un incarico A livello regionale Questo è molto grave quanto è successo C'è un'offesa nei confronti anche dei cittadini Che sono degli elettori Non possono essere appunto Denominati così come sono stati appunto Considerati In quella definizione E come tale La mia posizione è stata in coerenza Con tutte quelle che abbiamo espresso Come consiglio regionale Nel prendere le distanze da queste dichiarazioni È un metodo che deve essere Lontano dalla cultura dei principi Della regione Toscana Il dottor Toscani non è estraneo Ha delle esternazioni assolutamente pesanti E inopportune Questa volta Queste sue esternazioni Non solo si sono connotate In modo estremamente forte Nei confronti Della leader di Fratelli d'Italia E quindi connotate Di un certo sessismo Ma ricordiamo anche Le affermazioni gravi Su quanto è accaduto Sul ponte Morandi Ecco, noi riteniamo Che questa figura Non possa Essere collegata Alla regione Toscana Nel tanto a meno Avere incarichi Retribuiti Si parla di 35 mila euro Per una campagna Che tra l'altro Avebbe dovuto Promuovere le figure femminili Bentornate in Toscana Ecco Francamente Ci sembra Al quanto inopportuno Non revocare l'incarico Alla luce appunto Di dichiarazioni Che sono assolutamente Pesanti Che certamente Non sono condivisibili Ma che ci aspettavamo Fossero stigmatizzate E condannate Anche dalla maggioranza Se si cambia La cultura Si cambia anche Il destino delle donne Questo è uno Dei messaggi più potenti Che Marina Pratici Jacqueline Monica Maggi E Anna Massi Hanno lanciato In occasione Della presentazione Del loro libro Bambine negate Edizione Ele Contratta Il doloroso tema Della violenza di genere Dal punto di vista Di bambine Abusate Nel mondo E ha riscosso Veramente Un grande successo Di premi E soprattutto Appunto A breve Sarà anche Ristampato E più che altro Tradotto in inglese Spagnolo E arriverà anche L'edizione in lingua tedesca Io sono molto grata Marina Pratici E le equa autrici Di questo piccolo volume Che sta avendo Un grande successo Anche a livello internazionale Se ne parla Proprio perché Tocca in modo preciso Senza Sobrio E con Anche con appunto La precisione Di chi Professionalmente E tecnicamente Si occupa Di questi temi Un aspetto Delicatissimo Della violenza Cioè Il dopo Il dopo Ciò che ci nega Lo sviluppo Il lungo periodo L'effetto L'incidenza Che ha Sulle personalità E sulla loro capacità Di contribuire Alla Alla società Tutta Quindi Ricordiamoci Leggiamolo E affrontiamo Questo tema Che è uno dei molti temi Che dovrebbe spingerci A veramente Trovare una Soluzione Per questa Piaga Che continua Ad uccidere Molte donne A ferirne altre E a limitarne A soggiogarle A tenerne E tenerne Limitate Moltissime Nasce da un incontro Nasce da un congresso Possiamo dire Per semplificare Che l'opera Raccoglie Gli atti Di questo congresso Un congresso In tema Della violenza Di genere Va da sé Con una specifica Importante A parer mio Di significanza Prima Che è quella Della violenza Di genere Nell'infanzia Che talora Viene praticata E quindi Viene subita Chiaramente Senza che si colga Come tale E c'è un chiaro Riferimento Anche ai concorsi Di Baby Miss Che è un tema Assolutamente Insensatamente Poco esplorato Perché è una Forte predazione Del diritto A essere una bambina Quindi già vai a predare Che il diritto In età adulta Perché se a 5-6 anni Vai a mandare Il messaggio A una bambina Piccola Davvero Che è vincente Solo se magra Solo se bella Ecco dunque Noi abbiamo già negato La pieno sviluppo Completo Di una personalità Femminile adulta Le forme di violenza Adesso si acuita La sensibilità Verso le violenze Quindi stanno aumentando Tantissimo le denunce Ma non perché prima Non ci fosse la violenza Perché non c'era La sensibilità Le donne non si rendevano conto Di essere maltrattate Ora invece Anche quello che passa Tutti i giorni Per i tribunali Si intendono maltrattamenti Anche le umiliazioni La mancanza di fiducia Tutto ciò che La stessa convenzione Di Istanbul Ha inserito Come maltrattamenti Ma ora lo sentono Anche le donne stesse E lo denunciano E si conluge Anche il nostro appuntamento Dentro il Consiglio Vi ricordo Per tutti gli aggiornamenti Le informazioni www.inconsiglio.it Io vi ringrazio Per essere stati con noi E vi aspetto Tra sette giorni Sempre qua Dentro il Consiglio Per essere stati con noi